Già dal braccialetto si capisce che è una persona posata. Siamo in compagnia di Giuseppe Graffetti della Fermento. Pizzeria Fermento. Siamo in una settimana settimana. Che pizza sta privata? Allora, noi portiamo tre piccoli di pizza, una margherita, una margherita, una margherita e noi facciamo la pizza speciale nostra che la vogliamo, la pizza di l'angelo da 10 anni e non ci sta davvero. In questa funzione sono da pizza aperto, ci si vengalo in questa fine Fитанcia. Si sono stati pieni di lavoro, ci sono stati di� e sehope romano quelle del cala romano lecce sono e sf fundsareamba alle alle di un'altra taraf e che c'è la parte buona via